Ben trovati, martedì 28 luglio, nuova edizione del Tg di Cilento Channel. Apriamo con il Covid-19 e le notizie che aggiornate per quanto riguarda Agropoli salgono a 5 i casi in città, superata quota 30 per quanto riguarda i contagi nel Cilento. Ma vediamo tutto nel primo servizio di oggi. Sono giornate di attesa ed anche di preoccupazione per i nuovi casi di coronavirus che stanno colpendo il Cilento dalla scorsa settimana. Le due località più attenzionate restano Agropoli e Pisciotta. Nella giornata di ieri il caso del ragazzo agropolese che è stato in vacanza a Capri e che al ritorno è risultato positivo al Covid, ha ricondotto ad un singolo caso dopo i tre dell'altro ieri per 5 contagi totali nella città di Agropoli. Ora si lavorerà sui contatti dei quattro positivi al virus, previsto un grande numero di tamponi da parte dell'Asla, una situazione che resta delicata. A Pisciotta i casi riconducibili alla cena del medico salernitano restano per ora 17, ma anche per il piccolo centro costiero cilentano si attendono svariati tamponi. Situazione decisamente migliore a Casalvelino e Capaccio Pestum, dove i contagi si sono fermati rispettivamente a 3 e 6 positivi. Presunto falso positivo a Stio, si tratta di un uomo ricoverato al San Luca, al quale verrà effettuato nuovamente il tampone per verificare con precisione la sua effettiva positività al virus o negatività. Intanto arrivano smentite su un presunto caso di Covid a Castelnuovo-Cilento, nessun contagio, come annunciato dal sindaco Eros Lamaida, l'uomo sottoposto a tampone e risultato negativo. E dall'emergenza Covid-19 con i casi di contagio all'emergenza ospedaliera. L'ospedale di Agropoli ancora non è perfettamente funzionante e continuano le denunce sull'ospedale appunto. Il reparto Covid purtroppo è ancora fermo. Purtroppo, dalla riapertura dell'ospedale di Agropoli avvenuta nelle scorse settimane, non c'è stato molto di positivo nelle vicissitudini legate al nosocomio. Le denunce sull'operato nel presidio ospedaliero sono state numerose e hanno tutte in comune l'attuale stato di inefficienza e di impreparazione della struttura di accogliere pazienti e di fornire cure adeguate, nonostante la presenza completa del personale, molti dei quali presenti all'interno della struttura anche in Alpi, cosa che rende i costi di mantenimento ancora più alti. Una delle ultime vicende riguardanti la mancanza di un adeguato soccorso nella struttura è accaduto negli scorsi giorni ad un'anziana cittadina con problemi cardiaci, recatasi all'ospedale con forti dolori addominali. Nessuna cura fornita sul luogo, semplicemente dei medicinali consegnati al familiare da somministrare all'anziana e nessuna visita domiciliare del personale presente nella guardia medica. In città si è discusso molto anche del caso dell'anziano ricoverato con un tumore nel reparto di medicina dell'ospedale civile, purtroppo in condizioni terminali. All'aggravarsi delle sue condizioni è stato trasportato al San Luca con un'ambulanza proveniente direttamente da Vallo della Lucania e non con una a disposizione del 118 ad Agropoli. Sulla vicenda c'è però da precisare che i trasferimenti interni al distretto sanitario Vallo Agropoli vengono fatti con le ambulanze e ospedaliere al fine di non sguarnire il personale della rianimativa 118. L'ospedale agropolese ad ora è completo con tanto di personale, rianimazione, radiologia, laboratori e sale operative funzionali. Manca solo il cardiologo, ma nonostante ciò non vengono forniti i servizi. E in merito all'ospedale civile di Agropoli è intervenuto anche il primo cittadino, Adamo Coppola, che ha detto nel tempo avremo i risultati. Il reparto Covid non può aprire per un solo caso. Il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, ha intervenuto nella giornata di ieri in diretta su Cilento Cianne ed ha parlato anche riguardo le problematiche e le polemiche che vedono come protagonista l'ospedale civile. Ho sentito parlare dei disservizi che ci sono stati, qualcosa non ha funzionato bene, dichiara Coppola, ma stiamo parlando di un ospedale riaperto da pochissimo. Però sono contento perché abbiamo due posti di terapia intensiva ordinaria e si potranno così ricevere anche i codici gialli. Non si può avere tutto e subito, bisogna avere pazienza. Sono già stato in ospedale per lamentarmi, ma in termini di immagine la struttura non deve essere distrutta. Non è tutto nero come sembra, nel tempo avremo i risultati. Coppola ha interrogato anche riguardo la gestione del Covid Hospital, proprio in questa situazione di nuovi contagi in città e nel Cilento, ha parlato di apertura a step. È evidente che l'ASL ha organizzato le aperture dei Covid Hospital per step. Ci sono due strutture operative, quella di Scafati e l'ospedale del Mare, e se ci sono 15-20 casi gravi nella provincia non ha senso averne uno per ospedale. Si ottimizza concentrando i pazienti in un'unica sola struttura. Se nel Cilento dovessero aumentare i casi, afferma il sindaco, ha senso aprire Agropoli. Ma con un solo caso non è ipotizzabile per l'ASL. Il reparto a ballo è chiuso e per non avere contagi interni e confusione è Agropoli a dover essere impegnato in questo. Dovesse capitare un aumento dei malati, l'ASL mi ha rassicurato sull'apertura. Anche io avrei preferito che il ragazzo contagiato sarebbe rimasto ad Agropoli, però si devono fare i conti con i numeri, conclude il primo cittadino, Adamo Coppola. Prima di chiudere una notizia, paura nella notte ad Agropoli. Un'abitazione ha preso fuoco intorno alle 2. Praticamente l'accaduto è avvenuto sulla collina San Marco. Naturalmente la situazione poi è stata controllata dai vigili del fuoco. E andiamo in pubblicità, siamo alla fine della prima parte, ritorneremo tra qualche minuto. Le Tisane di Zara, prendersi cura di te è un'ambizione sana. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Letisane di Zara, info 333 90 26 266. Da oggi puoi prenotare online su www.bccbcc.it una videoconsulenza che ti consente di dialogare con la tua banca ed evitare di recarti in filiale. Usa Relax Banking per l'operatività sul tuo conto corrente H24. Centro Polifunzionale Elysium, piscina semiolimpionica, palestra, centro fitness con attrezzi di ultima generazione, pizzeria con ingredienti genuini e selezionati, sala bar. Centro Polifunzionale Elysium, via lento Agropoli Salerno. Info at elysium4u.it Risarcimento Italia, dal 1995 al fianco di chi ha subito un danno. Aiutiamo e tuteliamo i nostri clienti per fargli ottenere in tempi rapidi il risarcimento al quale hanno diritto. Risarcimento Italia, via Mattine 5, centro Le Torri, Agropoli Salerno. Villa Franca, a Domignano Scalo, per consentire a persone anziane di vivere in un ambiente controllato e protetto. Assistenza sanitaria 24 ore su 24, svolta da infermieri professionali. Villa Franca, via Cerreta 27, Omignano Salerno. Il gruppo Riflessi, con esperienza ventennale nell'abbigliamento e la profumeria, vi invita a visitare la nuova sede in via Mattine ad Agropoli, Abbigliamento uomo-donna per tutte le taglie, profumeria fornitissima delle più grandi firme. Gruppo Riflessi, abbigliamento e profumeria, via Mattine, Agropoli. Prodotti locali e nazionali di qualità e a prezzi molto convenienti. Non è una favola per bambini, è MD. MD, passione, tradizione e competenza. Buona spesa Italia! Ben trovati, seconda parte del nostro notiziario. Adesso vediamo un'intervista al vicecomandante dei vigili urbani, Maurizio Cauceglia di Agropoli, che ha parlato dei casi Covid nella città. Fa chiarezza, Cauceglia, su come sono andati i fatti. Ci troviamo in compagnia del vicecomandante della Polizia Municipale della città di Agropoli, Maurizio Cauceglia, per fare un aggiornamento ai cittadini sulla situazione attuale dei casi Covid in città e per ovviamente tranquillizzare la popolazione su diversi aspetti. Maurizio, cerchiamo di fare un po' di chiarezza innanzitutto e poi nel dettaglio magari ci darai tu delle informazioni utili che i cittadini potranno reperire. Allora, vi ringrazio per questa occasione e voglio coglierla per portare un po' di chiarezza che non ha la finalità di far abbassare la guardia alle istituzioni, vi compresa il Comune di Agropoli, a cui appartengo io, all'ASL, alle altre forze dell'ordine. Però è necessario effettuare un'operazione di verità e di chiarezza sulla realtà di Agropoli. Ricordo ai tanti, ai cittadini di Agropoli, che fino a pochi giorni fa Agropoli era una città Covid-free o free-Covid quindi eravamo riusciti a debellare ogni forma di contagio nella nostra comunità e gli ultimi episodi che hanno visto interessare alcuni ragazzi di Agropoli da fenomeni di contagio, che attualmente, ricordo, sono nel numero di 5, non hanno una matrice agropolese. Lo voglio evidenziare perché la matrice di questo contagio deriva dall'isola di Capri, che è il luogo di turismo per eccellenza, rappresenta il mondo del turismo in questo momento e i nostri ragazzi, i ragazzi che per un'escursione, per un fine settimana, hanno deciso di trascorrere in quella città, probabilmente in un locale di pubblico spettacolo, hanno contratto questo contagio, così come lo hanno contratto i sette cittadini romani che poi lo hanno esportato in altre zone del Cilento o in altre città. Ma limitiamo al nostro caso. Il nostro caso, quindi, è limitato a questi ragazzi che hanno fatto questa escursione nella città di Capri e hanno contratto il contagio da Covid-19. Ovviamente, venendolo nella nostra città, hanno avuto degli ulteriori contatti. Parliamo di ragazzi che vivono la loro vita, la loro estate, nel modo più intenso possibile e quindi, diciamo, al manifestarsi del primo sintomo, del primo caso Covid, successivamente questo ragazzo è stato ricoverato nell'ospedale di Scafati e le notizie ci dicono che sta in buone salute, diciamo, continua il decorso, però non ci sono pericoli per il ragazzo né tanto meno per gli altri ragazzi che sono risultati allo Stato, che sono risultati positivi. L'elemento del contagio, quindi, la matrice, l'elemento di unione con il luogo dove è stato contratto è Capri e non è, diciamo, la città di Agropoli né tanto meno il luogo per eccellenza, diciamo, della movida agropolese. Perché negli ultimi tempi vi è stato questa, come dire, come evidente, abnorme e a volte anche ingiusta, diciamo, accusa, diciamo, nei confronti di questi, dei titolari di queste attività commerciali e dell'area stessa, estesa anche al, diciamo, al Comune di Agropoli e alle altre istituzioni per, tra virgolette, un'omessa attività di controllo. Noi, per quanto abbiamo potuto nel rispetto delle nostre, diciamo, prerogative e anche quelle delle forze di polizia, parlo dei carabinieri e, diciamo, presenti sul territorio del Comune di Agropoli, abbiamo cercato di, come dire, di intervenire laddove ci fossero le condizioni per intervenire. e, diciamo, la mia attività, in modo, diciamo, specifico, la mia attività in occasione di questi fenomeni ultimi di contagio è stata proprio di raccogliere unitamente al medico della prevenzione collettiva dell'Astra e di fare questa raccolta di dati incrociati attraverso, diciamo, la verifica, non solo la stesura di una lista dei contatti, ma anche nel valutare la qualità di questi contatti e quindi il dato che emerge è che vi è una quasi sostanziale sovrapposizione di contatti tra il primo paziente contagiato e i successivi e voglio evidenziare che il contatto originario è avvenuto a Capri e l'estensione dell'altro contagio molto probabilmente è avvenuto in un residence posto in una zona agricola della città, non nella movida di Agropoli. Cautelativamente il sindaco come autorità sanitaria impegnato fortemente a mettere in campo tutte le energie e tutte le azioni possibili per prevenire i fenomeni di contagio e quindi di contrastarli, coinvolgendo anche i commercianti che voglio evidenziare diciamo nella giornata di venerdì non hanno posto alcuna resistenza, anzi hanno essi stesso partecipato e sollecitato l'amministrazione a trovare un punto di sintesi che è sfociato nell'adozione di un'ordinanza di chiusura per 48 ore di tutte le attività commerciali e artigianali che costituissero elementi di attrazione e di assembramento nell'area di Piazza della Mercanzia, via Pisacane, via Riviera Antonicella. Questo perché per permettere all'autorità sanitaria nelle 48 ore di tamponare e processare i dati acquisiti e capire se effettivamente l'amo vita di Agropoli potesse essere causa oppure causa di ulteriori fenomeni di propagazione. Quindi ci siamo preoccupati di interrompere questa catena di trasmissione dei contagi attraverso una chiusura, un blackout di 48 ore. I dati che emergono, a meno che non possano essere smentiti nelle successive ore, sono che gli elementi, i luoghi di contagio sono stati originati a Capri e si sono propagati per gli altri ragazzi non nella movita di Agropoli ma in un noto residence in un residence di Agropoli dove è stata festeggiata una festa di laurea. Quindi una normale festa di laurea dove magari c'erano pochissime decine di ragazzi a festeggiare un momento gioviale per un ragazzo che aveva conseguito la laurea e non nella zona dove magari il venerdì, il sabato e la domenica ci sono centinaia di ragazzi che vivono la movita agropolese. Ovviamente questo non deve essere il senso di questa, diciamo, delle cose che ho appena rappresentate. Non ha lo scopo di abbassare la guardia. Anzi, la guardia deve essere diciamo, sempre alta in primis dai cittadini che devono osservare le norme. Come dicevo con te poc'anzi, è difficile diciamo, creare un rapporto di uno a uno. Cioè, un cittadino per un vigilante che sia vigile urbano, sia carabiniere o polizia di Stato. È un fatto culturale. I mass media ne hanno parlato diciamo, fino all'inverosimile. Ogni giorno ci si ricorda sempre con spot e con iniziative che arrivano diciamo, da tutte le direzioni di rispettare le norme anti-assembramento. E i commercianti, non abbiamo rilevato commercianti all'interno diciamo, dell'area della Movida che non rispettassero le norme anti-Covid, quella di diciamo, indossare la mascherina e di evitare che all'interno diciamo, ci siano delle persone che non indossano la mascherina. Il problema diventa proprio di concentrazione in quell'area. E quindi che cosa è allo studio? Anche sulla scorta dei dati che definitivamente saranno diciamo, estrapolate di qui a qualche ora a seguito dei processi diciamo, dei dati acquisiti dei tamponi anche delle ultime liste dei contatti e il sindaco diciamo, unitamente alle forze di polizia e perché no anche all'associazione dei commercianti i quali sono mi sembra di aver capito sono i primi ad essere preoccupati di questo stato di cose e chiedono diciamo un intervento e vogliono partecipare quindi vi è assolutamente preoccupazione alto senso di responsabilità in primis da parte dei commercianti e degli addetti ai lavori che non diciamo non disdegnano eventualmente di porre in essere unitamente al comune delle azioni correttive che possono garantire la sicurezza diciamo di vivere la città di Agropoli il fine settimana in sicurezza non solo per i ragazzi ma per le famiglie quindi diciamo noi ci siamo preoccupati unitamente alle autorità sanitarie della prevenzione collettiva e alle altre forze di polizia di interrompere questo circolo vizioso di propagazione tutti quelli che diciamo sono ascrivibili diciamo in quei contatti desunti dalle informazioni sono stati posti in isolamento e quindi ci pare di poter dire che quegli elementi eventuali di pericolo di propagazione del contagio siano stati interrotti ed ascritti ai nuclei familiari ovviamente le misure di isolamento non sono state prese solo nei confronti diciamo delle persone ma estese anche ai rispettivi nuclei familiari quindi vi è la massima attenzione sia del sindaco come autorità sanitaria ma anche del dipartimento di prevenzione collettiva su diciamo le misure di sicurezza poste in essere voglio cogliere altresì l'occasione per ribadire anche diciamo elementi di disinformazione che sono emersi alcuni di questi ragazzi figli di noti professionisti sanitari non sono stati contagiati dai loro genitori ma sono stati contagiati nella catena che ho appena rappresentato quindi i genitori che sono dei stimati professionisti nel mondo diciamo delle attività e delle professioni sanitarie sia ospedaliere che diciamo di medici di base sono esclusivamente sono assolutamente fuori da ogni catena di contagio quindi questo lo dico al fine di evitare strumentalizzazioni antipatiche e inutile e perniciose che possono solo fare del male ai ragazzi stessi e alle loro rispettive famiglie non so se posso aggiungere altro se posso in qualche modo contribuire noi personalmente per i mesi di agosto stiamo cercando come Polizia Municipale di allungare anche la prestazione verso mezzanotte per venire incontro anche le esigenze diciamo dell'amministrazione di garantire una maggiore presenza ma si tenga presente che le risorse umane non ci permettono di poter garantire 24 ore su 24 la totale copertura né tantomeno ho sentito da più parti perché la Polizia Municipale non fa la notte perché voglio fare un'operazione di chiarezza ho avuto ma anche modo di scriverlo sui social di rispondere a taluno voglio evidenziare che le Polizie Municipali d'Italia sono state chiamate a collaborare con le forze di Polizia dello Stato in forza di una disposizione del Ministro dell'Interno e il 25 maggio del 2020 al termine della fase 2 il questore di Salerno facendo seguito ai questori di tutta Italia recependo una specifica direttiva del Ministro dell'Interno hanno stabilito che le Polizie Municipali non dovessero più occuparsi della materia dell'ordine pubblico in materia di assembramenti relegando alle Polizie Municipali l'attività di vigilanza di Polizia Stradale nei luoghi di maggiore aggregazione ovviamente da duvantum accanto alle nostre attività noi abbiamo sempre anche controllato diciamo e là dove è stato possibile siamo anche intervenuti ricordo che le uniche attività commerciali chiuse per violazioni sono state fatte d'iniziativa della Polizia Municipale e non ci siamo mai totalmente disimpegnati nonostante la volontà dello Stato sia stata quella di far disimpegnare le Polizie Municipali noi sentiamo forte il senso di responsabilità diciamo su questa partecipazione e al di là delle funzioni che ci vengono attribuite noi riteniamo di lavorare nell'interesse pubblico e della comunità e quindi siamo fortemente impegnati diciamo e continuiamo ad esercitare questa attività di controllo finalizzata a mettere in campo tutto quello che possa essere di contrasto al propagarsi diciamo del fenomeno del covid del contagio del covid 19 ma ricordo ai tanti che la liberalizzazione cioè la riapertura di tutte le attività impone diciamo alla Polizia Municipale ma ai carabinieri la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza che si riprendono tutte le attività non solo quelle di anti-covid quindi l'emanazione di ordinanze da autorità sovracomunali come il Presidente della Regione che sono dei bellissimi enunciati di diritto poi diventano diciamo delle disposizioni di difficile attuazione perché accanto a queste ordinanze che delegono i comuni alle aziende sanitarie e alle altre forze di polizie di mettere in campo diciamo attività e azioni di contrasto di prevenzione di contrasto al fenomeno del contagio non sono accompagnate da trasferimenti di risorse che permettono poi effettivamente ai comuni di partecipare a delle assenzioni straordinarie per implementare l'organico e finalizzato poi a rendere diciamo un servizio che diciamo vada nella direzione di tranquillizzare la comunità con un maggiore controllo voglio cogliere l'occasione anche perché vi è stato un equivoco sul trasferimento sul finanziamento che ha avuto il ministero del comune di agropoli dal ministero dell'interno dei 32 mila euro per il progetto estate sicure 2020 questo progetto qualcuno lo ha letto solo nel titolo in verità è strutturato 32 mila euro che è una somma irrisoria il 50% di questa somma cioè il 18 mila euro sono da utilizzarsi per l'acquisto di spese da imputare sulla spesa primaria cioè sui beni durevoli e quindi noi abbiamo acquistato un'autovettura solo 18 mila euro erano destinati a porre in essere azioni di contrasto al commercio abusivo sulle spiagge in modo particolare dei prodotti di contraffazione e ad adiuvandum a questo il ministero dice se procedi a fare delle assunzioni si controlli anche magari il fenomeno di distanziamento con quelle somme il comune è riuscito ad assumere tre agenti a tempo determinato a 18 ore settimanali va da sé che in sostanza divisi per due turni è ridotto all'omicino quindi quello che riusciamo a fare è quello che ci chiedono e ci mettono in condizione di fare quindi questi soldi che sono stati finanziati dal ministero diciamo avevano era di quella entità e per quella finalità quindi in effetti le azioni che sta ponendo in essere il comune lo sta facendo con enormi sacrifici finanziari ma a carico diciamo delle casse comunali in ordine al numero dei tamponi effettuati al di là del numero preciso voglio essere diciamo voglio fare un attimo di chiarezza in un momento emergenziale può succedere che anche nel colloquio istituzionale tra il comune e le aziende sanitarie possano determinarsi diciamo dei fenomeni di corto circuito questo però è solo un effetto sull'informazione ma mai sulla sicurezza cioè i tamponi processati hanno diciamo dato un esito e per solo per un problema di informazione si aveva avuto notizie che quasi tutti i tamponi fatti nel pomeriggio fossero stati negativi poi è arrivata l'ultima notizia che un tampone di un ragazzo era positivo tuttavia voglio tranquillizzare che la famiglia del ragazzo risultato poi essere positiva era già in isolamento quindi è stato solo un dato distorto dal punto di vista dell'informazione ma già mai della sicurezza quindi il ragazzo e la famiglia e il suo nucleo familiare erano in isolamento e sono rimasti in isolamento a prescindere dalla condizione dell'informazione sbagliata o non sbagliata sul probabilmente corro anche il rischio di ripetermi rispetto a quello che ho detto le persone contagiate e oggi positive a cui va il mio ringraziamento per la chiarezza e l'estrema collaborazione che hanno prestato nei confronti della Polizia Municipale e delle autorità sanitarie che li hanno intervistate hanno riferito di tutti i contatti anche quelli che ritenevano essere irrilevanti e quindi poi non è nella totalità della lista dei contatti che debbono essere necessariamente effettuati i tamponi e successivamente processati e proprio dall'intervista dalla qualità del rapporto che riferisce la persona contagiata o le persone che hanno avuto contatto con la persona contagiata che poi l'autorità sanitaria determina le priorità dei tamponi da effettuare e se è del caso di effettuarli tutti o se di ascriverli unicamente a quelli che hanno avuto un rapporto qualitativamente significativamente importante da un punto di vista sanitario diciamo e di interesse per verificare se ci siano se ci siano stati dei fenomeni di contagio da covid-19 quindi si tenga presente che in questo momento si lavora diciamo con ritmi diciamo serrati e che nel rapporto laboratorio unità operativa di prevenzione collettiva comune polizia municipale può emergere come può essere rilevato un dato non corretto ma che non può essere mai ascritto alla condizione di sicurezza perché voglio ribadirlo al di là dell'esito diciamo dei tamponi le persone sono in isolamento fiduciario quindi l'obiettivo delle autorità sanitarie e del diciamo del sindaco come massa autorità sanitaria è stato quello di spezzare questo diciamo pernicioso circolo vizioso che poteva determinare fenomeni di contagio diciamo più importanti e attraverso le azioni poste in essere quindi l'immediata definizione di tutti i contatti la chiusura per 48 ore e diciamo e l'attenzione sui risultati con l'analisi incrociati ci mette in una condizione di poter stabilire che allo Stato sono stati posti in essere tutti gli accorgimenti necessari sono allo studio eventuali misure correttive che possono facilitare il lavoro delle forze di polizia e anche quelle dei titolari delle attività commerciali nella movita agropolese per dare soprattutto garanzia ai cittadini che vogliono vivere la città nei fine settimana o tutte le sere d'estate e farlo in sicurezza bene facciamo ancora un'altra pausa dopo questa lunga intervista ci rivedremo tra qualche minuto terza parte del Tg un'altra pausa Fisiomedica Fisioterapia Rieducazione Posturale Globale Misura e Prenotazione Plantari Ortopedici Ozonoterapia Tecar e Laser Terapia Elettroterapia Antalgica Ecografie Visite Specialistiche Fisiomedica Via Nitti 1 Agropoli Salerno Per ogni tua esigenza amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pestum L'Ettisane di Zara L'Ettisane di Zara Prendersi cura di te è un'ambizione sana Comunicazioni Lenti a contatto Focus Point Effettuano piani nutrizionali personalizzati Studio di nutrizione e benessere Dottor Andrea Ricci Pagina Facebook Studio nutrizione e benessere Convergenze Internet Fon TV Energie Rieccoci dopo la pubblicità Terminiamo il nostro telegiornale con un servizio riguardante l'inaugurazione della seconda casa dell'acqua inaugurata ieri ad Agropoli e poi i servizi dalle redazioni distaccate di Salerno e nel Vallo di Diano Inaugurata nel tardo pomeriggio di ieri la casa dell'acqua in località Moio si tratta della seconda attivata al momento in città dopo quella predisposta nelle scorse settimane in via Taverne ne seguiranno di nuove a breve fanno sapere da Palazzo di Città in Piazza Gallo area mercatale di Via Pertini località Madonna del Carmine località Mattine e vista la forte richiesta ne sorgeranno altre anche in località Fonte e al centro storico una soluzione che guarda all'ambiente portando ad una riduzione del consumo di plastica ma anche al portafoglio considerando il prezzo molto economico praticato pari a solo i 5 centesimi di euro al litro il distributore eroga acqua naturale frizzante e leggermente frizzante stiamo proseguendo nel discorso delle case dell'acqua sapete che gli obiettivi da raggiungere sono due il primo è quello dell'eliminazione della plastica che è un obiettivo ambizioso importante ma che si raggiunge anche con questo tipo di iniziative e il secondo quello anche di dare al cittadino la possibilità di a pochissimo 5 centesimi parliamo al litro di poter portare a casa insomma l'acqua ha una cifra molto molto ridotta devo dire con una certa soddisfazione che le cose vanno bene perché la prima casa posizionata in via Taverna ha avuto un enorme successo sono continue persone che vengono questa seconda io credo che andrà affettando bene ma ci sono altre aree della città per cui non è stato previsto il posizionamento della stessa e molti cittadini sono venuti a chiederci di poterla insomma in qualche modo mettere faccio l'esempio per esempio dell'adione Fondi sono venuti a chiederci che anche lì venga messa posizionata una casa quindi diciamo un'iniziativa che ha visto di un apprezzamento da parte dei cittadini di questo siamo felici e quindi proprio per questo motivo andremo avanti e cerchiamo di implementarla in una maniera più ampia che ci sarà possibile insomma un servizio quindi di comodità di prossimità a questo punto perché se riusciamo a posizionarlo quasi in ogni quartiere sarà veramente una cosa di prossimità anche perché la città di Acopoli insomma è vero che ha 22.000 residenti ma di fatto i domiciliari sono ancora di più quindi abbiamo anche i numeri per sostenere tutte queste casette ma soprattutto l'obiettivo è come abbiamo detto stare vicino ai nostri cittadini dall'aggiornamento del bollettino dell'asla di Salerno arrivano altri due tamponi positivi nel comune capoluogo dove diventano 38 i casi di covid-19 ma per fortuna nel caso degli ultimi due positivi registrati oggi si tratta di persone che si trovavano già a casa in isolamento domiciliare in quanto già individuati e seguiti dall'asla di Salerno come contatti di casi precedenti in totale tra i tamponi processati questa mattina sono tre i positivi oltre ai due di Salerno c'è un nuovo caso emerso a Scafati per il quale sono in atto le prassi consolidate in primis la ricostruzione della filiera dei contatti familiari e lavorativi intanto cresce la preoccupazione nel Cilento dove giovedì un modello di screening di massa in grado di analizzare i punti a maggiore sensibilità verrà attuato nel comune di Pollica a darne notizia il sindaco Stefano Pesani che ha presentato con queste parole il test al quale giovedì 30 luglio grazie alla collaborazione con l'istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno saranno sottoposte tutte quelle attività imprenditoriali che hanno una forte interazione con il pubblico Pollica si trova vicina a comuni interessati da piccoli focolai nel Cilento il numero complessivo dei positivi nel comune di Pisciotte è di 17 di cui almeno 5 non sono più presenti sul territorio comunale perché in osservazione presso altre strutture ospedaliere ad Agropoli passano da 4 a 5 i casi positivi a Pestum Capaccio sono 6 a Casalvelino 3 stiamo per affrontare il periodo più complesso della nostra stagione turistica detto il sindaco di Pollica Stefano Pisani nel corso delle ultime settimane abbiamo provveduto ad attuare le maggiori misure di prevenzione giovedì metteremo in campo un ulteriore intervento di contenimento i tamponi verranno eseguiti dalle 8.30 alle 14 presso l'edificio dell'ex South di Acciaroli in totale sicurezza rispettando le regole anti-covid ieri a Sala Consilina i veicoli storici sono tornati ad essere protagonisti delle strade grazie all'associazione Club Auto e Motostoriche Vallo di Diano che con il suo presidente Fernando Tuozzo non ha voluto rinunciare al radun annuale che riunisce tutti gli amanti dei veicoli d'epoca in un appuntamento dedicato allo stare insieme ma che contribuisce anche a riscoprire la storia e la cultura del territorio il settimo raduno di questo strano 2020 era stato programmato da tempo con data fissata negli ultimi giorni di aprile purtroppo l'emergenza covid ha impedito la normale realizzazione della manifestazione nella data fissata ed è stato necessario posticiparla ieri grazie al sostegno economico di numerosi sponsor come l'Università Telematica Pegaso con il sostegno arrivato dalla responsabile della sede di Padula Antonella Pessolano la GB di Brizzi di Valentino di Brizzi Ferramenta Bruno di Lamura Giovanna e tantissimi altri sponsor che hanno supportato l'iniziativa è stato possibile realizzare la giornata di raduno di auto e moto d'epoca con incontro presso il 58 di Trinità di Sala Consilina all'estendo un'area di iscrizioni dotata di ogni sistema di sicurezza necessario a ridurre ogni rischio di contagio da Covid-19 in totale sicurezza abbiamo voluto questa manifestazione perché è giusto continuare è giusto ripartire è giusto che si vada avanti e niente penso che ci siamo riusciti non lo so penso che siamo a 60-65 macchine per cui la giornata è riuscita ringraziamo tutti gli sponsor e tutte le persone che hanno fatto in modo che questa manifestazione riuscisse adesso facciamo un brindisi e poi ripartiamo direzione Caggiano attraversiamo Sala direzione Caggiano lì ci sarà la visita del castello del museo della polizia e poi verso l'una massimo l'una e mezza andremo al ristorante alla Tana del Lupo dove ci sarà un pranzo con prodotti tipici Caggianese in sicurezza è stato quindi possibile divertirsi grazie anche ad un'attenta organizzazione del club auto e moto d'epoca Vallo di Diano che per ringraziare i partecipanti ha donato loro gadget davvero speciali composti da una bottiglia di squisito vino ed una confezione di disinfettante per le mani bene è tutto per oggi grazie per averci seguito l'appuntamento con il TG di Cilento Channel rinnovato con una prossima edizione arrivederci